Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli eliminata. Alfonso Signorini sbotta. Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Meno male, direbbe qualcuno. Non di certo il buon Alfonso Signorini che non ha fatto mistero di essere molto dispiaciuto. D'altronde il conduttore l'ha sempre protetta in tutti questi mesi sorvolando sugli innumerevoli scivoloni di cui si è resa protagonista la cantante lirica. E l'ha difesa anche nell'ultima diretta nel momento della sua uscita dalla casa. La Ricciarelli ha chiesto di frizzare tutti i concorrenti in modo da poter salutare solo chi voleva lei. Di certo non è un bel gesto da parte della nostra Katia, ma ciò che non è piaciuto al pubblico è il fatto che in seguito il buon Alfonso ha redarguito chi non si è voluto alzare per andare a salutare comunque Katia, nonostante lei non li avesse considerati poco prima. In particolare si è scagliato contro Jessica, Lulu e Miriana, che non si sono mosse, rimanendo fedeli al loro pensiero. Le tre sono state riprese in diretta da Alfonso, che ha ritenuto che non avessero fatto proprio una bella figura. Insomma, secondo il signorini pensiero, le tre dovevano comunque salutare Katia, visto che ha una signora di 76 anni, bisogna portare il rispetto e non si nega il saluto. Peccato che questo discorso lo doveva fare anche la Ricciarelli. Non si nega il saluto e si porta rispetto sempre e comunque, indipendentemente dall'età. Ancora una volta signorini ha perso l'occasione per dimostrare una imparzialità che invece non c'è. È chiaro che Katia sia sempre stata la sua preferita ed è stato ancora più chiaro in occasione della sua eliminazione. Non contento il conduttore, non ha neppure dato la possibilità a Lulu, Jessica e Miriana di spiegare le loro motivazioni, zittendole in malo modo. Cosa che ovviamente non è piaciuta a gran parte dei telespettatori? Katia Ricciarelli è poi giunta in studio e qui c'è stata una standing ovation da parte dei presenti. Nemmeno avesse vinto il grande fratello Vip. Tant'è il buon Alfonso, tra un complimento e l'altro, ha ripercorso la sua avventura all'interno della casa, svelando alla cantante di aver contattato il suo ex Pippo Baudo nel corso di questi mesi per convincerlo a farle una sorpresa. Peccato che il Pippo nazionale abbia rifilato un bel no a signorini. Niente da fare, Pippo Baudo non ha voluto in alcun modo partecipare al grande fratello Vip. Non si capisce se per qualche diatriba con la ex moglie o per qualche altro motivo. Ma non è tutto perché nel corso della diretta è stato letto un messaggio postato sui social da Clarissa Selassie che non era presente in studio. La ragazza si è scagliata contro Katia, mandandola letteralmente a quel paese e gioendo per la sua uscita. Anche in questo caso il conduttore ha ripreso duramente la princess, tacciandola di maleducazione. Chiuso il capitolo, Katia Ricciarelli ha fatto discutere il fatto che Signorini, durante le nomination, abbia negato che il grande fratello abbia censurato delle frasi di Nathalie Caldonazzo, ritenute gravissime dalle sorelle Selassie. Pare si tratti di frasi razziste. Una vicenda di cui si parla da giorni. Peccato che ogni volta che i concorrenti abbiano parlato della questione siano stati censurati. Alla fine dopo che Jessica ha chiesto una diffida contro Nathalie, il buon Alfonso ha chiesto alla produzione di recuperare le immagini e gli audio della parte incriminata. Peccato che poco prima aveva dichiarato che non ci fosse nessuna immagine a riguardo e nessuna immagine è saltata fuori sino ad ora. Di certo dopo l'ultima diretta il buon Alfonso ha tirato su di sé molte critiche. L'unica cosa positiva della puntata è stato il fatto che per una volta non si è iniziata la diretta con il triangolo Soleil, Alex e Delia. Tra l'altro il nostro Alex non era neppure in studio. Ecco questo fatto unito all'eliminazione di Katia ha fatto gioire molti telespettatori. Contenti per l'uscita della Ricciarelli? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.